Un tema particolare come la detenzione di persone transgender, un cast di rilievo che annovera tra gli altri Vittoria Schisano, Maria Di Biase e Vito Signorile, un regista tutto pugliese, anche autore di soggetto e sceneggiatura, insieme a Piero Rossi. Terminate le riprese di Lea e il Fenicottero, l'ultimo lavoro di Antonio De Paolo, regista molfettese che ha scelto la forma cooperativa per dare voce ai suoi personaggi. De Paolo, infatti, è presidente di una tra le poche cooperative nel settore audiovisivo, l'assedio film, aderente a Conf Cooperative Puglia. Il senso della cooperativa nel cinema, applicato diciamo al cinema, per noi corrisponde al fatto di aver unito le intenzioni di più persone al servizio appunto della creatività, che in questo caso non è soltanto appunto la regia, ma è anche appunto la scrittura. A fare da sfondo un dramma psicologico, distopico, ma molto agganciato a dati e di realtà, il dismesso carcere di Accadia, caratteristico borgo della Daunia, poco distante dal comune più elevato di Puglia, Monteleone. Terra di confine, comune di pace e di promozione dei diritti dei più fragili, la cittadina, tra gli altri, non si è tirata indietro nell'offrire un aiuto concreto a sostegno della produzione audiovisiva. Il nome di quel senso di accoglienza anche nei confronti di migranti, che contraddistingue il borgo noto per la rivolta delle donne contro l'oppressione del fascismo nel 1942. Una realtà territoriale che guarda al prossimo futuro, scommettendo su un progetto, che sarà realizzato con il sostegno di Conf Cooperative, nel campo dell'autismo e che ha come leva la cura e la valorizzazione delle aree boschive. È importante il ruolo delle cooperative perché ci danno la possibilità di fare in modo di affiancare le competenze professionali adeguate a quelle che sono le valorizzazioni del territorio, quindi dal punto di vista boschivo, la valorizzazione dei boschi del nostro territorio e la valorizzazione del nostro DNA per quanto riguarda l'impegno del sociale.